quello di oggi sarà un video un po polemico ragazzi e come avete visto dal titolo sarà anche una sorta di sfogo ma credo che sia necessario perché io sono anche uno di quelli che è in grado di comprendere basti guardare come sto vivendo questo calcio mercato sono consapevole che non ci siano soldi mi auguro che la juventus possa fare comunque del suo meglio e do anche la possibilità prima di arrabbiarmi eventualmente di arrivare anche a fine mercato perché capisco che non sia facile l'importante secondo me è arrivare a creare una squadra competitiva farla adesso farla ad agosto farla più in là a me non interessa do le tempistiche giuste alla juve per lavorare non pretendo tutto e subito e so che ci sono delle evidenti difficoltà però credo anche che sia giusto andare a contestare alcune cose qualora non si verificassero poi degli effettivi colpi di mercato da parte da juventus e andare a criticare delle operazioni che secondo me sono state palesemente scandalose ora mi sono tremendamente arrabbiato ieri sera quando ho aperto one football e ho visto che l'atalanta e il tottenham erano molto vicini a concludere questa trattativa che porterà poi oltre a gollini anche il romero a londra per una cifra intorno ai 50 55 milioni di euro comprensivi di bonus scaricare one football il link qui sotto in descrizione per altre notizie che ci faranno tremendamente arrabbiare anche la juve ma non è che mi sono arrabbiato principalmente perché era un giocatore della juve quindi quei 55 milioni potevamo prendere noi che ci avrebbero anche magari fatto comodo questo non mi interessa sono dell'idea che che possa essere giusto ogni tanto cedere dei giocatori e magari non credere in un determinato acquisto ora andrò a farvi un video diviso in due parti il primo di mera cronaca e cioè riportandovi quello che è accaduto e il secondo la seconda parte più personale per farvi capire perché sono così arrabbiato e perché considero veramente romero il peggior acquisto la peggior trattativa la peggior gestione di mercato nell'intera storia della juventus ho provato a sforzarmi di trovare altre trattative disastrose e ce ne sono state un sacco tiago almiron diego felipe melo potrei dirvene una marea ma non ho mai visto qualcosa di così scandaloso come romero quindi un mi piace se siete curiosi di sapere perché ed eventualmente se concordate con me sul fatto che è stata la peggior trattativa di sempre per raccontarvi tutto bisogna tornare alla stagione 2018 2019 l'ultima di allegri questa era la rosa di allegri per quanto riguarda i difensori centrali in quella stagione chiellini ben a tia sostituito poi da casseress nella finestra invernale barzagli bonucci rugani e cosa succede l'estate prima l'estate prima viene sacrificato caldara in cambio di bonucci poiché sarebbe un giocatore più immediato per per disputare subito il campionato perché arrivava cristiano ronaldo e quindi non c'era la possibilità di aspettare far crescere giorni se voleva provare il tutto per tutto sin da subito regalando a ronaldo una squadra competitiva per provare a vincere al champions league o comunque andare avanti in champions e quindi si è scambiato caldara bonucci pensando anche e ripeto secondo me quello scambio è stato giusto di modificare poi in corso d'opera nel futuro andando a creare una rotazione generazionale per quanto riguarda i difensori andando a investire su eventuali giovani nelle stagioni successive infatti la juventus cosa fa in quella stagione successiva all'acquisto di ronaldo quindi l'estate in cui sarri viene nominato allenatore della juventus del it demiral romero tre acquisti due eccessioni una che è stata casseress e una che è stata barzagli che è andato a ritirarsi e quindi ha abbandonato definitivamente i campi da gioco romero poi non rimarrà nella rosa da juventus quindi barzagli e casseress escono ed entrano dell'iter e di miral quindi lo sappiamo tutti com'è andato e rimane anche rugani a fare il quinto centrale questa è appunto la nota ufficiale rilasciata sul sito la juventus per ufficializzare l'arrivo di romero concediamoci su romero non sugli altri ma su romero accordo con il genoa per l'acquisizione definitiva del calciatore cristiano romero 12 luglio 2019 juventus comunica il perfezionato accordo con la società genoa per l'acquisizione del titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore romero al fronte di un corrispettivo di 26 milioni di euro pagabili in tre esercizi 26 milioni di euro cash pagabili in tre esercizi juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2024 quindi cinque stagioni sportive juventus ha sottoscritto con il genoa un accordo per accessione temporale a titolo gratuito fino al 30 giugno 2020 del diritto alle prestazioni sportive al genoa per un massimo di 5.3 milioni a raggiungimento di determinati obiettivi sportivi ora dato che c'è scritto a favore del genoa io immagino che dovesse poi non lo so romero diventare un giocatore beh la eventus darà ulteriori 5 milioni al genoa 5 milioni e 3 non sono sicurissimo di aver capito bene questa parte quindi quando torneremo dopo andremo a evidenziarla ma io leggendo il comunicato con la mia ignoranza capisco che sono 26 sicuri più eventualmente te ne do altri 5 un po' qualora dovessero concludersi determinate situazioni e quindi 31 milioni di euro per cristiano romero o 26 o 31 questo è quello che capisco io con il prestito gratuito di un anno un anno dopo ed è questo che mi fa incazzare terribilmente la juventus comunica questo perfezionato l'accordo con la società atalanta per accessione a titolo temporaneo biennale fino al 30 giugno 2022 del diritto alle prestazioni sportive di romero per un corrispettivo di 2 milioni pagabile interamente nel corso di questo esercizio il corrispettivo patuito potrà essere aumentato nel corso di due stagioni di altri 2 milioni e l'atalanta avrà il diritto di opzione per l'acquisto il titolo definitivo del medesimo calciatore a un fronte un corrispettivo di 16 milioni pagabile in tre esercizi ragazzi quando l'anno scorso è uscito questo comunicato mi sono messo le mani nei capelli ripeto 26 o 26 più 5 quindi 26 o 31 juventus lo cede a due più altre due più 16 fa 20 ragazzi fa 20 anche solo fosse stato 26 juventus ci ha perso 6 milioni di euro capiamo questa cosa qua secondo me è folle possiamo anche pensare all'ammortamento va bene ma anche con l'ammortamento juventus ci avrebbe rimesso dei soldi ci avrebbe rimesso dei soldi perché già non ha dato in titolo gratuito il prestito di un anno cosa succede poi va all'atalanta fa una stagione all'atalanta viene premiato come miglior difensore della serie a ci spacca arthur tra l'altro vince la coppa america e adesso in procinto di passare dall'atalanta al tottenham per 50 milioni di euro è questo che mi fa veramente incazzare una slide di riassunto potrebbe essere questa la gestione dei centrali difensivi della juventus dal 2019 al 2021 questa è l'estate in cui acquistiamo delit romero e demirà 75 partite con la juventus delit da quel momento in poi 32 demirà 0 romero 29 chiellino 82 bonucci 14 vogliani 4 dragosin delit aveva 20 anni demirale romero 21 delit costa 85 milioni e mezzo con anche oneri accessori per la trattativa destinati a raiola demirà costa 18 romero poi i famosi 31 e 3 di cui parlavamo prima o comunque 26 vedete voi per il prestito per il bonus e la cessione la juventus guadagna 20 milioni e quindi è in perdita di 11 milioni e 3 in questa trattativa allora la juventus in quella stagione decide di investire 135 milioni di euro circa per l'acquisto di tre difensori centrali giovani perché è ben consapevole che chiellini e bonucci hanno una certa età e prima o poi dovremo salutarli che rugani non è al livello per essere un giocatore titolare nella juventus guadagna tanto ed è un esubero e quindi la juventus si mette avanti compra tre difensori centrali dal futuro promettente tutti e tre giovani e spende una barca di soldi ottimo fantastico giustissimo è giusto che sia così però uno dei tre il secondo più pagato la juventus da quel giorno che ha comprato il giocatore gli fa fare zero zero partite ricorda la trattativa spinazzola luca pellegrini che ora luca pellegrini è tornato alla juventus ma fino adesso ha fatto zero partite ed è stata carne a plus valenza qual è la differenza grossa che in quell'occasione lì in quell'occasione lì non hai pagato hai dato spinazzola ci hai perso un giocatore tra l'altro un ottimo giocatore con dei limiti legati agli infortuni ma non hai tirato fuori soldi due anni fa la juventus cash tira fuori 31 milioni di euro per un giocatore al quale comunque aveva dato una possibilità vuol dire che ci credi se spendi 31 milioni di euro cash per un difensore centrale i vent'anni vuol dire che ci credi che ci credi invece no zero partite con la juventus l'anno dopo venduto almeno 10 milioni in meno di quanto l'avevi pagato un anno prima ed ora vale 50 milioni ma la cosa che mi fa ancora più ridere è che all'epoca le trattative venivano gestite da fabio paratici no quindi paratici due anni fa crede il romero lo acquista per 31 milioni l'anno successivo non crede il romero non lo fa rimanere all'alimento usato via per 20 milioni l'anno dopo ancora crede il romero e lo acquista al tottenham per 50 e rotti a me fa ridere mi fa ridere mi fa ridere perché una società come la juventus che dice faccio programmazione vado a comprare dei giovani spendo un sacco di soldi ragazzi 135 milioni circa per questi tre centrali e poi ora ci ritroviamo in una situazione in cui chiellini rinnoverà e ci sta per un anno poi bisognerà vedere che ruolo avrà gerarchico c'è bonucci che è sempre più vecchio delitte l'unico su cui non ho neanche un dubbio demiral potrebbe andare all'atalanta a sostituire romero che hai dato via e romero che ci hai perso un sacco di soldi perché l'hai pagato troppo l'hai ceduto a poco e adesso costa il doppio più del doppio di quello che l'hai ceduto solo un anno fa e quindi tra un anno ti ritrovi qua con chiellini con bonucci con delit con rugani e forse dragosin perché anche dragosin è stato inserito eventualmente nella trattativa col sassuolo e se punto a capolettra maiuscola quando tre stagioni prima avevi speso quasi 150 milioni di euro per rifarti la difesa allora ripeto 75 partite delit 82 bonucci 32 demiral ma 29 chiellini con un anno in cui è stato infortunato anche demiral è stato infortunato perché si è fatto il crociato pure lui ma sei mesi dopo chiellini sei mesi dopo chiellini zero zero romero quattro dragosin e quattore cirugani allora quello che voglio dirvi è questo a parte il fatto che credo che questa sia veramente la trattativa peggiore la storia della juve e dopo due anni siamo qua che non sappiamo se riusciamo a comprare un singolo calciatore a 40 milioni di euro di valutazione che locatelli perché non ci abbiamo i soldi da tirare fuori due stagioni fa 335 milioni di difensori centrali per poi ritrovarci praticamente con il solde elite bene o male una roba del genere e a mangiarci le mani per romero e vedremo per demirale vedremo per frabotta che sono interessati sono giocatori in trattativa con l'atalanta però signori ma è una follia questa roba è una follia vera e propria se tu hai in testa di fare programmazione bene prendi giovani deve avere il tempo il coraggio di aspettarli perché se tu mi compri un giovane a 30 milioni un anno e dopo una stagione la quale non è andata benissimo col genoa me lo vendi l'anno dopo a meno tu non stai facendo programmazione tu stai comprando tanto per comprare poi se c'è spazio non c'è spazio chi se ne frega hai speso dei soldi perché all'epoca ce li avevi e chi si è visto si è visto questa non è programmazione programmazione a lungo termine e aspettare che appunto chiellini e bruci si ritirino o comunque non siano più in grado di giocare a questi livelli per fare entrare gli altri avere dell'it romero ed emiral ed eventualmente bonucci e dragosi per l'anno prossimo erano una coppia titolare fantastica più altri tre di riserva di alto livello ed eri già posto avevi fatto il mercato due anni fa avevi programmato eri stato bravo eri stato lungimirante l'anno prossimo ti ritroverai con dell'it e bonucci probabilmente punto interrogativo chiellini perché probabilmente non ci sarà punto interrogativo dragosi perché magari è dato al sassuolo per locatelli punto esclamativo di emiral che magari sarà un top difensore all'atalanta romero al tottena che poi potrà far bene fare male quello è un altro discorso quello è un altro discorso ma se tu mi paghi cash 30 milioni un giocatore non me lo puoi vendere l'anno prossimo un ventenne un ventenne a 20 milioni e puoi dire eh però adesso costa 50 eh sì costa 50 ne dico un'altra l'atalanta e la juventus sono due società diverse l'atalanta vive anche di queste cose il sassuolo vive anche di queste cose io non farei cambio a tifoso della juventus con un tifoso dell'atalanta l'atalanta è una squadra che in questo momento di immaginare collettivo sta facendo benissimo ed è oggettivamente vero ma per quelli che sono gli obiettivi dell'atalanta quindi comprare giovani far crescere i giovani poi che si vinca non si vinca un altro discorso alla juventus lo sappiamo non c'è tempo quindi se vuoi programmare con i giovani i giovani devono essere già pronti non puoi prendere un giovane come fagioli e pretendere che sia già pronto ad essere un titolare in sera della juve devi avere 3 4 giocatori già pronti e fagioli deve essere il quinto pronto a entrare pronto a crescere per eventualmente puoi averlo a disposizione perché se no il rischio poi è questo tu continui a comprare giocatori spendere dei soldi avere anche quelli che un domani potranno essere i più forti e poi non li fai giocare poi non li fai giocare li vendi e magari li vendi anche a poco del suo valore questo mi fa ridere mi fa ridere perché la juventus notoriamente è identificata come la società che ha favore da una parte favore dall'altra favore di qua favore di là io tanti favore non ne vedo è questo momento vedo 30 milioni romero al genoa atalanta 20 l'anno dopo sasso adesso ne vuole 40 per locatelli io dei favori non ne vedo anzi le squadre sanno che la juventus aveva non aveva dei soldi hanno provato a prendere tutto il possibile giustamente scemi noi che ci siamo fatti tirare in mezzo a una trattativa di questo tipo veramente non riesco a giustificarla in nessun modo